Un saluto ai telespettatori di Le Fonti TV, siamo qui per una nuova puntata di Legal Corner e siamo in compagnia dell'avvocato Monica Pagano, name partner dello studio Pagano & Partners. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, benvenuta. Avvocato, lei ha vinto il premio per i Le Fonti Awards come boutique di eccellenza dell'anno ristrutturazione del debito. Le faccio i complimenti ma le chiedo anche un commento a questo riconoscimento. È stato un onore anche perché è il secondo anno che io, il nostro studio e il collega avvocato Matteo Marini riceviamo questo premio e questa premiazione diciamo che cela comunque tutto il sacrificio che c'è dietro il nostro lavoro. Un lavoro che diventa negli anni sempre più complesso e difficile per una serie di dinamiche ed è stata veramente una grande soddisfazione. Ecco, entriamo anche nel merito di questo settore, quello della ristrutturazione del debito che evidentemente è stato uno di quelli più stressati dalla crisi tuttora in corso. Le chiedo se può fare una fotografia del settore restructuring. Sì, appunto noi ci occupiamo di ristrutturazione del debito nel modo più ampio possibile nel senso che cerchiamo di supportare in questo cammino sia che i clienti siano privati o che siano aziende. Era un settore già molto pressato prima della pandemia ed è ovvio che a seguito di questa crisi ci sia una situazione molto molto complessa. Nonostante diciamo che la situazione è stata un po' celata da alcune caratteristiche perché comunque fino a giugno le esecuzioni immobiliari sono state sospese, le cartelle esattoriali sono state sospese, non era possibile attivare degli sfratti e quindi c'era una sorta di stallo. Ma da giugno sono ripresi tutti questi procedimenti e i numeri sono critici comunque, anche perché appunto guardando le statistiche nel primo trimestre del 2021 le esecuzioni immobiliari erano scese drasticamente proprio perché vi era a causa Covid la sospensione dei pignoramenti sulla prima casa. Da giugno sono ripresi tutte queste esecuzioni immobiliari e è un quadro molto molto complesso. Hanno ripreso il via licenziamenti, sono ripartite tutte le cartelle esattoriali, si parla di 900 miliardi di debito con il fisco per gli italiani, quindi sono numeri veramente importanti. Ecco, le chiedo anche di fare anche il punto sugli scenari futuri rispetto a questo settore e anche per quanto riguarda il vostro studio, come sarà il 2022? Io credo che inizieranno, non è ancora iniziato il periodo peggiore, inizierà tra non molto. Dico questo perché è vero che sono ripartite ad esempio i pignoramenti, le aste, ma ancora non sono state fissate le prime aste. E' vero che sono ripartite le cartelle, ma ancora non sono state notificate neanche forse le prime cartelle. Quindi diciamo che l'ondata, a mio parere, deve ancora arrivare. E i prossimi anni saranno sicuramente difficili e duri. Ed è per questo che ogni volta che ho l'opportunità di fare un'intervista o comunque di uscire con delle informazioni, il mio consiglio a chi si trova in delle situazioni già compromesse soprattutto, ma che comunque si possono compromettere, di rivolgersi a dei professionisti per valutare delle possibili soluzioni. Cioè non attendere già l'esito o un evento. Cioè solitamente il cliente dice, sì ma l'asta è fra sei mesi, poi vedrò. No, ecco, ma non è un buon approccio perché sotto il periodo dell'aste immobiliare, quindi della vendita della casa, non è che si possano trovare chissà quante soluzioni per risolvere la problematica. E ritengo, se mi permette, di dire che lo Stato non è molto di aiuto in questo, nel senso che secondo me c'è una cattiva informazione. Ad esempio, ho letto spesso in questi mesi articoli di giornale con il condono fiscale, rottamazione e condono fiscale. È un veicolare, un'informazione sbagliata, perché è vero che si possono e vogliono mettere in campo delle soluzioni, ma con 1800 criteri e vincoli. Dando un'informazione così generica, si sviluppa nel cliente medio il fatto che troverà una soluzione grazie allo Stato e non è così. Quel cliente si troverà a non andare da un professionista, a non trovare una soluzione da sé, ma aspettare l'evento poi della cartella che gli verrà notificata e che in realtà non potrà essere rottamata perché non rientra in quella rottamazione. E le faccio un esempio. Appunto, una di queste soluzioni messe in campo è sì la rottamazione, ma di cartelle intestate a persone con un reddito inferiore a X, cartelle fino a 5.000 euro e solo cartelle di X anni. ecco, non è che non sia una soluzione, ma dare l'informativa con dono fiscale è troppo generica. Eh sì, certo. Spesso si tende purtroppo a generalizzare. Bene, Avvocato, io la ringrazio per essere stata con noi. L'Avvocato Monica Pagano, Nain Partner, Nain Partner, Nain Partner, Io ringrazio voi dell'opportunità. A lei di nuovo e grazie anche ai nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima puntata di Legal Corner. Grazie a tutti. Grazie a tutti.